A per i battenti la Sarnico Lovererun 2013, la corsa competitiva di 26 km, giunta alla sua terza edizione. Fissato per domenica 21 aprile del prossimo anno, l'appuntamento porterà sul Lago di Seo moltissimi appassionati. Parlano chiaro i numeri della passata edizione, con 2000 partecipazioni alla competitiva e 600 persone che hanno preso parte a quella non agonistica, lunga 6 km e con partenza da Riva di Solto. La manifestazione coinvolgerà anche i comuni attraversati dagli atleti. Anche quest'anno ci sarà il premio del tifo, cioè un assegno di 1000 euro per il comune con la tifoseria più accesa, il tutto da devolvere in beneficenza. Le iscrizioni sono aperte solo da pochi giorni e oltre 500 sono gli atleti già iscritti. Alte sono le attese per questa edizione e per un appuntamento che ha guadagnato rilevanza a livello nazionale. Credo che sia un grande evento di comunità, in un momento dove abbiamo necessità di costruire il tessuto delle nostre comunità. È un'impresa sportiva, i numeri sono incredibili perché in pochi anni siamo arrivati a numeri da gare internazionali. È un evento di carattere turistico e soprattutto è un evento che valorizza, oltre che i nostri grandi campioni, anche le comunità che si affacciano su questa bellissima nostra strada di Vierasca che è il tratto che andrà da Sarnico fino all'Overe. Noi siamo sicuri di migliorare ancora e abbiamo delle immagini bellissime che stiamo promozionando in lungo e in largo in Italia negli eventi più importanti. Saremo la prossima settimana alla Maratona di Firenze, una delle più partecipate in Italia e non dovremo parlare molto. Noi abbiamo fatto un investimento molto, molto importante in quella direzione per far conoscere il lago di Geo, per far conoscere il nostro percorso, per far conoscere il nostro territorio e siamo convinti di coinvolgere tantissima gente. L'anno scorso abbiamo detto 2.000 e abbiamo superato tranquillamente le 2.000 iscrizioni. Quest'anno non diciamo niente, diciamo che all'arrivo il 21 aprile nel porto turistico sempre di Lovre ci saranno più di 1.800 persone.